I parlamentari Enrico Borghi, PD e Mirella Cristina, Forza Italia, scrivono ad ANAS dopo la chiusura di ieri della superstrada. Provvedimento dell'ente strade non comunicato agli amministratori dei comuni interessati dal conseguente aumento di traffico fino alla congestione. Hanno protestato i primi cittadini di Piedimulera, Pieve Vergonte, Ornavasso e Premosello Chiovenda. Borghi parla di atteggiamento inaccettabile da parte di ANAS e spiega che se la situazione non è degenerata è solo per il pregevole lavoro fatto dai sindaci. Ho chiesto ad ANAS un confronto con la prefettura del VCO, continua Borghi, affinché situazioni tali non si verifichino più nel futuro. Lo stesso ha aggiunto che nell'emergenza non si può sempre solo sperare nella buona volontà di amministratori e volontari, ma occorre organizzazione e professionalità. In questo caso da parte di ANAS è mancata, forse anche a causa di un'assenza di guida e di controllo politico, ha concluso l'onorevole Democratico. Non si mette in discussione la situazione di emergenza e la necessità di chiudere la strada, afferma Mirella Cristina, ma è indubbio che tale chiusura non è stata segnalata adeguatamente agli automobilisti e soprattutto non mi risulta sia stato fatto nulla per instradare correttamente il traffico. Cristina parla di comuni che si sono ritrovati a dover fronteggiare da soli la situazione senza alcuna comunicazione né coordinamento. A monte di tutto, conclude, sembra poi esserci anche la questione della manutenzione del verde lungo la superstrada, circa la quale ho chiesto di avere informazioni precise riguardanti tempi e modi di intervento.